Sospeso tutto il trasporto pubblico, via terra, via mare, via cielo, per lo sciopero generale indetto da CGL Cisle Will. Domani e dopodomani potrebbero esserci gravi disagi per chi si sposta in busso o in treno, mentre lo sciopero del personale del trasporto aereo proseguirà fino alla giornata di venerdì. È previsto anche il blocco dei porti, e stavolta non a causa del ministro degli interni, e addirittura la sospensione dei servizi funerari. Lo sciopero, che si prospetta super partecipato, si propone, nell'intenzione dei sindacati, di fare pressione su istituzioni, imprese, nazionali e regionali, per tutelare i lavoratori del sistema dei trasporti. Per puntare un farro sulle infortuni e sulle ancora troppe morti sul posto di lavoro, affinché si trovi una soluzione per la concorrenza al ribasso, che prolifera tramite lo sfruttamento del lavoro in nero e l'evasione fiscale, ma anche per chiedere ragione dei 58 milioni che il governo ha tagliato al Fondo Nazionale Trasporti. In Abruzzo i disagi potrebbero essere parecchi, perché lo sciopero riguarda da vicino anche la nostra regione. Domani i lavoratori si asterranno dai loro mestieri contro l'isolamento in cui l'Abruzzo è destinato a perdurare. Sì, perché nel frattempo aumenta di circa il 30% il costo dei biglietti del treno, a causa del cambio di nome dei Freccia Bianca, nonostante la durata del viaggio rimanga invariata. E ancora verrà soppresso il collegamento aereo Pescara-Milano e rimane incerta la condizione del trasporto pubblico abruzzese. Mentre i cittadini continuano a lamentare di servizi sui vetusti mezzi pubblici, la società unica abruzzese di trasporto potrebbe chiudere in rosso anche il prossimo bilancio.